come lettrice mi sento sempre spinta verso due direzioni opposte verso due tensioni opposte la prima è quella di rileggere i libri che ho amato e l'altra è quella di leggere quanti più libri possibile perché voglio ritrovare altri libri che mi diano le stesse sensazioni che mi hanno dato i libri che ho amato mi rendo conto essere un conflitto irrisolvibile irriducibile perché in realtà per tutta la mia vita ho sempre alternato letture nuove in misura naturalmente maggiore e riletture non dico di condividere al 100% la versione di Nabokov perché in sostanza Nabokov da ossessionato della letteratura credeva veramente che la rilettura fosse l'unica vera lettura perché in fondo un testo se non lo leggi quelle 40 50 volte non lo conosci veramente bene non condivido questo approccio secondo me fin troppo rigido principalmente perché se no dovrei rassegnarmi al fatto di leggere di aver letto nella mia vita soltanto 4 5 titoli perché in fondo se devi fare tutte queste riletture è evidente che devi anche limitare il numero di libri che leggi d'altra parte però invece mi sento molto vicina a quello che pensava giorgio manganelli cioè che veramente la rilettura sia la misura la vera misura con cui noi sappiamo conosciamo approfondiamo un testo lui scriveva rileggere è camminare su strade che credevamo di conoscere perché fondamentalmente noi leggiamo mossi dalla curiosità dall'interesse magari una punta di disagio per la nostra scoperta ignoranza scriveva lui saremo un po come gli spettatori al cinema vediamo un po cosa succede invece rileggere già è un discrimine perché in realtà non esiste una sola rilettura esistono tanti tipi di rilettura innanzitutto esiste una rilettura che lui definisce immediata cioè quella che è obbligatoria se vuoi scrivere una recensione o se vuoi farti un'idea più precisa di quello che hai provato leggendo il libro ed è anche il motivo per cui per esempio sottolineo di solito io faccio le orecchie libri e sottolineo perché poi quelle sono le cose che andrò a rileggere quando poi dovrò articolare una recensione ovviamente procediamo in maniera più sicura perché non siamo più preoccupati dal capire che cosa succede all'interno del libro perché lo sappiamo già per cui ci concentreremo più sulle allusioni sui dettagli cioè la verità che giorgio magari li scrive a una prima lettura sfugge quasi tutto mentre il rileggere ci fa ritrovare riscoprire riconoscere ciò che magari la lettura precedente ci aveva oscurato in un certo senso qualcosa che c'era stato tenuto nascosto diciamo così anche se dalla nostra distrazione questo poi è vero per quei libri che hanno davvero tanti significati stratificati per cui sono loro stessi che si nascondono che nascondono le interpretazioni perché sono sfuggenti cercano quel gioco intellettuale quella sorta di labirinto che l'autore stesso ha contribuito a costruire ama farsi cercare l'autore all'interno delle opere e quindi la rilettura serve a questo perché noi ci illudiamo di conoscere a memoria ma invece con la rilettura noi guardiamo ciò che abbiamo scrutato e cerchiamo nella superficie quella profondità che abbiamo creduto di trovare altrove così scrive giorgio manganelli nel rumore sottile della prosa e appunto è proprio questo titolo che già ci suggerisce il motivo per cui la rilettura è così affascinante perché le parole il modo in cui l'autore crea naturalmente non tutti gli autori non tutti i libri è ovvio però diamo per scontrato che stiamo parlando della grande letteratura o comunque della letteratura che noi abbiamo amato ecco l'autore sceglie con cura maniacale le parole da utilizzare quindi l'effetto che si va a creare poi quello di una trama sottile come un intarsio particolarmente riuscito che è fatto di dettagli come una tela fatta appunto da trame fittissime da fili sottilissimi tanto è più fitta la trama tanto è più sottile il filo che la compone ora secondo Nabokov la rilettura è necessaria perché lui aveva un'idea dell'autore come di una sorta di divinità come un dio che controllava quasi le reazioni che i lettori avrebbero dovuto avere leggendo i suoi libri quindi è evidente che lui che per lui la rilettura era fondamentale perché l'autore ha uno scranno ecco superiore essendo il creatore invece per esempio Roland Barthes ma poi tutta la critica a seguire avevano una visione completamente opposta perché a quel punto l'autore è morto e vale solo l'interpretazione del lettore io sinceramente mi trovo ad un punto intermedio nel senso che amo gli autori tiranni come Nabokov però capisco e mi piace anche il ruolo libero di libera interpretazione e creatività che c'è nella lettura nell'essere dei lettori delle lettrici quindi per me la rilettura non è un modo soltanto per conoscere meglio le intenzioni e per cercare degli indizi su cosa voleva dirci l'autore per scrutare meglio nei segreti appunto nella caccia il tesoro dell'autore no assolutamente non può essere questo non si riduce a questo la rilettura anzi la rilettura per me ha un motivo molto pragmatico molto quotidiano cioè io non mi ricordo a un certo punto come tutti penso come tutte le persone che leggono io non mi ricordo più i libri cioè non mi ricordo più la trama e quindi rileggere soprattutto i libri che ho amato comunque di cui ho un ricordo positivo per me significa imprimerli meglio nella mia memoria quindi in qualche modo riparare le falle che ci sono nella mia memoria in realtà noi pensiamo alla nostra memoria come un recipiente ma non funziona così ecco perché noi ci dimentichiamo i libri che leggiamo ed è assolutamente naturale che lo facciamo perché la verità è che soprattutto se leggiamo tanto quei libri verranno sostituiti dagli altri che leggiamo perché noi non ci possiamo ricordare tutto sarebbe inumano saremmo delle macchine saremmo dei computer degli hard disk non delle persone in effetti chi legge di meno è possibile che si ricordi meglio i libri che legge questa è la verità se tu leggi un solo libro all'anno probabilmente te lo ricordi anche molto bene anche in maniera molto vivida se tu leggi tanto è più probabile che tu ti ricordi peggio le cose e a me questa cosa fa rabbia cioè mi spesso mi fa arrabbiare il fatto che non mi ricordi perfettamente cosa succede in un libro per cui quando si tratta di testi che magari hanno fatto mi hanno formato come lettrice hanno fatto la storia insomma di la storia che io mi immagino nella mia mente di chi io sia come lettrice allora me li rileggo più spesso però per me la rilettura è veramente un piacere anzi diciamo che è quasi un guilty pleasure di solito si chiama guilty pleasure qualcosa che ci concediamo anche se sappiamo che ci farà male questa espressione secondo me è un'arma a doppio taglio perché viene usata per in qualche modo screditare alcuni prodotti popolari specialmente che piacciono ad un pubblico femminile infatti io sono convintissima che questa espressione abbia anche una sorta di sottotesto maschilista che sinceramente non mi piace cioè perché definiamo guilty pleasure 50 suonature di grigio quando invece è solo una cacata che può piacere ovviamente però diciamo possiamo anche chiamarla per quello che è un prodotto di intrattenimento popolare e invece non facciamo lo stesso ragionamento per altre cose altrettanto stupidine diciamo così che piacciono agli uomini tipo fin d'azione orribili eccetera eccetera perché non li chiamiamo guilty pleasure o meglio a volte è vero che vengono anche quelli chiamati guilty pleasure però spesso è un'etichetta che si affibbia ai prodotti spiccatamente destinati diciamo così ad un pubblico femminile o comunque che hanno come leva di marketing l'essere destinati ad un pubblico femminile e quindi non mi piace tanto usare questa espressione e nel mio caso invece la userò proprio nel senso letterale del termine io considero la rilettura spesso un guilty pleasure perché consideriamo un dovere da lettori il fatto di leggere tanto e quindi quando facciamo qualcosa che invece arresta questo processo quindi togliamo tempo alla lettura di libri nuovi o comunque alla lettura di libri che magari ci aspettano sugli scaffali della nostra libreria da tempo in memore perché le abbiamo comprati 18 natali fa e stanno ancora lì aspettando che noi li prendiamo in mano ecco ogni volta che decidiamo quindi di non leggere ecco ci sentiamo un po in colpa però nel caso della rilettura è un senso di colpa effimero perché in realtà è proprio la rilettura che secondo me ci fa venire ancora più voglia di leggere perché è veramente un piacere secondo me che si discosta un po dalla curiosità che di solito abbiamo dall'interesse che abbiamo per la semplice lettura di testi nuovi anzi potrebbe essere anche una sorta di piacere trasgressivo nell'era dell'accelerazione in cui viviamo una pressione costante per leggere le novità addirittura ci costringiamo a subire delle tecniche di lettura veloci il cosiddetto speed reading per leggere ancora più voracemente anche in maniera bulimica nel momento in cui ci sono che vanno tanto di moda le reading challenge e ci spingono a leggere quanto più possibile a diciamo farci salire l'hype l'entusiasmo per le novità editoriali ecco tutta questa tensione verso il nuovo effettivamente potrebbe farci perdere un po il gusto della lettura questo non vale soltanto per la lettura in realtà ma vale per tante altre cose tant'è vero che appunto nell'epoca dell'accelerazione dove tutto è veloce si consuma in maniera istantanea ci sono tanti ambiti del piacere che hanno aggiunto la parola slow all'inizio per esempio slow food slow traveling cioè il fatto di godersi meglio le cose le esperienze cioè rallentare non cadere nella trappola della velocità che spesso cela anche un po la delusione nel caso dei libri per esempio se noi leggiamo ad una velocità altissima probabilmente anche inadeguata al tipo di libro che stiamo leggendo è evidente che il rischio è quello di non che non ci lasci nulla che non non ci concediamo il giusto tempo per apprezzare quel quel libro e consumiamo velocemente qualcosa che invece era destinato ad accompagnarci per più tempo ad essere assaporato è come con il cibo adesso si stanno sviluppando tutte le tendenze al mindful eating che so che può sembrare una scemenza ma in realtà se ci pensate voi vi godete sempre il cibo che state mangiando oppure spesso vi ritrovate a fare pausa pranzo in 10 minuti masticando molto velocemente non assaporando il sapore non sentendo neanche non concentrandovi neanche sul sapore del cibo ma magari siete davanti al pc state lavorando non fate una vera e propria pausa no e quindi il mindful eating è un modo per concentrarsi solo sul cibo e la lettura effettivamente più che altre attività ha bisogno di quel tipo di concentrazione tant'è vero che lo slow reading nasce proprio per riprenderci rivendicare in qualche modo l'attenzione che di solito rivolgiamo alla tecnologia ai social alle distrazioni ora non solo una bacchettona non solo una persona che dice che la lettura è sempre meglio di altre attività perché non lo penso non lo penso minimamente ci sono dei libri che semplicemente sono una perdita di tempo è vero e quindi non starò qui a dirti non guardare instagram ti farà guadagnare dei punti etici o dei punti morali o dei punti cultura perché non è così a volte se becchi il libro sbagliato effettivamente era meglio stare su instagram però non tutto nuoce anzi io penso che la lettura di libri brutti o di libri semplicemente difficili anche ostici che magari non ci dicono nulla prima chitto può essere un'esperienza formativa comunque in generale lo slow reading è un po prendersi tutto il tempo necessario un modo per dire di riprenderci il tempo e secondo me è lo stesso discorso con la rilettura cioè la rilettura in fondo è un una variante dello slow reading perché fondamentalmente tu stai soltanto leggendo per ancora più tempo lo stesso libro cioè rileggere significa in sostanza come se stessi continuando la lettura di quel libro anche se non lo fai magari sempre consecutivamente d'altra parte io penso che nella rilettura ci sia il vero senso della letteratura perché la letteratura non è cosa succede non è scoprire cosa succede per carità anche però è soprattutto il come succede cioè almeno per me se devo pensare a che cos'è che mi piace della letteratura non è scoprire cosa succede quello magari è una molla che mi spinge a guardare più le serie televisive devo essere sincera invece nella lettura io cerco proprio il come qualcosa si mostra si rivela cerco lo stile cerco la bellezza più che in altri luoghi non mi sembra così assurdo il concetto della rilettura perché io per esempio sono una persona che riguarda spesso molto molto spesso i film questo perché da un lato non riesco mai a spendere meno di tre ore sul catalogo dei siti di streaming per scegliere cosa guardare cioè veramente io sono incapace di metterci meno di tre ore a scegliere un film nuovo da vedere quindi spesso ripiego su quelli che ho amato e il secondo motivo è che veramente a me piace conoscere le cose a memoria mi piace tantissimo conoscere cose nuove ossessionarmi con cose nuove ma sono anche una persona che ritorna sul vecchio non spessissimo perché poi alla fine sono acquario come segno zodiacale quindi non spessissimo però mi piace rileggere anzi posso dire che rileggere è diventata quasi una forma di difesa contro l'accelerazione contro la bulimia forse dei nostri tempi che ci spinge all'accumulo allora la rilettura c'è una lettura attenta lenta approfondita diventa veramente un modo sia per allenare la mia capacità di concentrazione sia per godermi di più ritrovare di più il senso di quello che sto facendo vi dirò che mi piace anche riscoprire delle sensazioni che ho provato ma ancora di più mi piace confrontare le sensazioni che ho avuto durante la prima lettura quelle al contrario della della trama me le ricordo quasi sempre c'è la la trama io me la dimentico invece le sensazioni che ho provato lo stile di un autore spesso mi rimane molto di più e poi mi piace metterle a confronto tanti autori su tanti autori cambio idea rileggendoli dobbiamo anche fare i conti col fatto che non c'è nessun autore che è valido in maniera oggettiva tanti libri ci parlano a seconda di quando li leggiamo ecco perché a volte in tanti classici della letteratura spesso non ci dicono niente per esempio il giovane olden secondo me ha molto senso se si legge a 18 anni non è una regola assoluta però se si legge nel periodo in cui olden è adolescente ci parla di più secondo me risuona di più invece se si legge quando si hanno 32 anni forse invece è troppo distante non ci sono regole fisse perché poi fortunatamente ogni persona fa storia a sé però di base è vero che il tempismo è cruciale in letteratura come in amore ecco la rilettura è un po un modo per riparare a questo tempismo quante volte magari avete provato a leggere un libro quando avevate 15 anni e avete avete pensato no non fa per me poi magari riprendendolo in mano in età adulta avete cambiato idea cioè la rilettura non è soltanto un modo per infondere il piacere della lentezza ma è veramente anche un modo per cambiare idea certo c'è anche il team tempo sprecato cioè rileggere tempo sprecato perché o sono esseri eletti che si ricordano tutto quello che leggono oppure effettivamente preferiscono sempre andare sul nuovo penso che lo spreco avviene nel momento in cui magari leggi con vorascità e con disattenzione e allora poi è inutile aver letto perché veramente non ti rimane nulla quindi trovo che l'unico spreco sia quello per il resto non c'è problema cioè se voi non avete mai riletto un libro non è che dovete farvelo una colpa non sto facendo una filippica a favore della rilettura e appunto una filippica contro la lettura di testi sempre nuovi anche perché io sono una persona che veramente se mi seguite sapete che io leggo tantissime novità editoriali altra argomentazione a favore della rilettura poi è la delusione potenziale nel senso che come abbiamo detto prima il tempismo è cruciale se abbiamo letto una storia in passato e ci riapprocciamo a quella stessa storia il pericolo di rimanere delusi cioè di non ritrovare quell'amore che avevamo provato la prima volta c'è quindi il rischio c'è d'altra parte è veramente difficile arrivare addirittura a odiare un libro che in passato abbiamo amato devo dire che quasi impossibile poi se ci sono degli esempi vi prego fatemi sapere perché sono molto curiosa rivalutare un testo lo trovo assolutamente normalissimo doveroso a volte abbiamo un po troppa idealizzazione non solo dei libri che legge in generale del nostro passato ci abbiamo paura di rovinare il nostro passato se lo scrutiamo meglio se indaghiamo più a fondo in realtà invece io trovo una grande serenità nel far questo cioè rivalutare il mio passato anche in chiave un po ironica mi aiuta a non prendermi troppo sul serio e a capire che non siamo solo la somma di tutto quello che abbiamo letto di tutto quello che ci è successo ma possiamo anche appunto scherzarci su e trovo veramente un grande conforto nel fatto che possiamo cambiare idea sulle cose col passare del tempo no col trascorrere del tempo tutto assume una prospettiva anche un po più leggera no cioè magari moravi e calvino rileggendoli adesso non ci sembreranno più così tanto esaltanti e vabbè pazienza tutta questa premessa gigante per dirvi che ultimamente ho ridetto due dei miei libri preferiti ferito a morte di raffaele la capria autore recentemente scomparso peraltro e proprio forse la sua scomparsa mi ha spinto a rileggere uno dei suoi capolavori e poi i buddenbrock di thomas man che in realtà ho riletto con uno scopo utilitaristico cioè dovevo tenere un corso una masterclass sui romanzi familiari sulle saghe familiari e ovviamente i buddenbrock è considerato il capostipite di un certo tipo di romanzo familiare ovvero il romanzo genealogico ovvero il romanzo che racconta le vicende che attraversano una famiglia quindi una sola famiglia attraverso tante generazioni diverse in vista di questa masterclass ho pensato bene di rileggere quello che poi a tutti gli effetti è uno dei libri che leggo con più piacere e una delle prose che veramente fanno commuovere quasi dalla bellezza ovvero quella di thomas man quando li avessi riletti probabilmente non potrei parlarvene perché la verità è che non solo in linea di massima ne avrei avuto un ricordo peggiore ma poi non avrei potuto per esempio fare dei collegamenti che obiettivamente non ci sono perché ferito a morte e i buddenbrock sono due titoli molto distanti ma rileggerli nello stesso momento mi ha fatto pensare a tante cose che invece ha tanti collegamenti che io adesso posso fare proprio perché li ho riletti voglio trarvi in inganno vi parlerò di questi due titoli in comparazione semplicemente perché io voglio fare questo esperimento voglio capire che cosa può mettere in collegamento due mondi così distanti perché nel caso di raffaele la capra stiamo parlando di un libro scritto a metà 1900 si tratta di un libro assolutamente moderno nello stile nei temi mentre i buddenbrock è il classico romanzo dall'impianto ottocentesco nonostante sia stato scritto all'inizio del novecento quindi proprio il 1901 1901 se non sbaglio sicuramente i temi contenuti dentro i buddenbrock anticipano quelle che saranno delle correnti d'avanguardia nel romanzo novecentesco ma rimane un classico tradizionalissimo romanzo familiare anzi uno dei capossipite come dicevo prima quindi che cosa hanno in comune questi due libri niente ma è proprio nel confronto facendo il confronto con le loro differenze tra le loro differenze che nascono queste mie riflessioni che adesso farò con voi perché quando parliamo di rilettura abbiamo parlato appunto di tempo non abbiamo fatto altro che parlare di tempo finora e questi due romanzi hanno un approccio opposto proprio al tempo alla memoria se infatti i buddenbrock è un classico romanzo con andamento diacronico per cui è proprio la successione temporale che scandisce l'intreccio che scandisce il racconto gli dà un senso perché la rovina della famiglia la parabola che disegna thomas man è proprio la caduta il declino di una famiglia e questa concezione si può declinare soltanto concependo il racconto come appunto un una susseguirsi una successione di momenti ed è proprio nella nel cambiamento che c'è da uno stato iniziale a uno stato finale che il racconto prende senso nel caso specifico dei buddenbrock ci troviamo all'ubecca e i protagonisti sono proprio una ricca famiglia di industriali di commercianti che da uno stato di estrema prosperità che si associa anche ad un benessere psicologico un benessere mentale e una reputazione sociale molto alta si passi invece ad una progressiva perdita di fiducia nella propria classe di appartenenza nel proprio status e ovviamente nella nella propria ricchezza perché nei libri di thomas mann le condizioni materiali sono strettamente connesse a l'interiorità dei personaggi tant'è vero che anche gli avvenimenti che accadono nei buddenbrock in realtà sono sempre indagati attraverso un'analisi psicologica un'introspezione molto pervasiva e assolutamente moderna ecco perché i buddenbrock ha un impianto tradizionale ma in realtà è proprio un romanzo che anticipa tante tensioni interne ai personaggi del novecento quindi abbiamo in un certo senso il seme del dubbio il dubbio in se stessi l'incertezza che era un po la malattia un po la malattia che attraverserà tutto il novecento anche in letteratura lo vediamo con la nascita di temi nuovi come il tema dell'inetto dell'inettitudine dello sgomento dello shock per tutti gli avvenimenti storici che in qualche modo gettarono la società in una sorta di sconforto di appunto shock culturale ecco thomas man tra l'altro mi confondo perché in realtà il protagonista assoluto dei buddenbrock ci sono tanti perché un romanzo corale però uno dei più importanti personaggi dei buddenbrock si chiama proprio come lui thomas infatti c'è molta autobiografia nei buddenbrock considerate che lui si servì dei ricordi della madre del fratello l'autore intendo si servì dei ricordi della madre del fratello per ricostruire questa genealogia comunque dicevo il capo famiglia thomas inizierà a covare tantissimi tantissime paure tantissime ansie che lo porteranno a sacrificare il suo talento per gli affari il suo intuito per il commercio ma non per qualcosa di esogeno cioè non per qualcosa che succede al di fuori di lui perché non c'è nessun motivo oggettivo per cui la famiglia debba in qualche modo rovinarsi economicamente tant'è vero che non c'è mai questo grande tracollo il tracollo non è materiale loro non finiranno mai in povertà semplicemente perderanno la fortuna cioè inizierà questo lento declino non saranno più in grado di crescere di prosperare e questo lento ma progressivo declino che poi si ripercuoterà sull'ultimo debut in brocco vero anno che fallirà nel raccogliere l'eredità paterna ecco tutto questo declino parte in realtà dall'interiorità di thomas che a seguito della lettura di schopenhauer avrà veramente una sorta di epifania abbraccerà in un certo senso un pessimismo proprio filosofico che lo porterà a non avere più fiducia nella sua classe nel suo senso di appartenenza una società che ha sempre reputato i buddenbrock particolarmente rispettabili dei punti di riferimento per la comunità ecco quando invece la società inizia a cambiare perché c'è una nascente borghesia rampante molto più aggressiva che non condivide gli stessi ideali morali dei buddenbrock che invece fanno parte della vecchia borghesia che discende a sua volta da una sorta di ideale aristocratico e ovviamente estremamente gerarchico della società ecco con tutte le tensioni democratiche che attraversa la società ovviamente tutto cambia e diciamo che la famiglia dei bundbrock non solo non riesce ad adattarsi molto bene al cambiamento ma soprattutto a livello proprio interiore inizia a covare delle ansie non riesce più a partecipare alla vita come prima e questa è un'attenzione tutta filosofica riprende un po il binomio che sarà il leitmotiv di tutta la produzione di thomas man fra arte e vita tra salute e malattia chi partecipa alla società chi accetta le convenzioni sociali aderisce completamente a il sentire del tempo il sentire del suo tempo come per esempio la borghesia ruspante alla quale i buddenbrock appartenevano in passato è sano e infatti se voi andate ad analizzare il rapporto col cibo per esempio all'interno dei buddenbrock scoprirete che i personaggi più intraprendenti più giocondi sono anche quelli che hanno più appetito la borghesia sana ha fame e qui non soltanto di cibo ma anche di beni materiali invece chi non si adatta a questo modello inizia a in qualche modo sentire una sorta di riquetezza interiore che spesso è anche indice di un animo artistico o intellettuale ecco queste persone come per esempio il fratello di thomas christian soffrono spesso di indigestione o hanno ipocondrie una salute traballante non in qualche in qualche modo sono proprio inadatti alla vita come si dimostrerà inadatto alla vita hanno il figlio di thomas appunto colui che dovrebbe ereditare i valori morali e l'impresa dei buddenbrock ma alla fine fallirà ecco questo binomio tra arte e vita chi è un artista spesso non si adatta bene ai ritmi della vita della borghesia della materialità ma vive in un altro mondo dove il tempo scorre diversamente e ovviamente il conseguente binomio tra salute e malattia poi troverà il suo toccherà il suo apice con il capolavoro thomas mano ovvero la montagna incantata questo contesto di forti tensioni conflitti sociali e cambiamenti è normale che il tempo assuma una valenza soprattutto se lo vediamo da un'accezione passata cioè la memoria diventa importantissima per i romanzi genealogici come i buddenbrock perché perché tutto il valore di una famiglia risiede nel passato in quello che si è fatto finora in quello che si è realizzato un oggetto fortemente simbolico all'interno del romanzo è proprio questo diario di famiglia dove vengono trascritti tutti gli eventi che hanno in qualche modo costellato la vita la galassia di tutti gli antenati e di tutti i membri della famiglia lasciare un segno su questo diario quindi fare qualcosa che riesca a portare avanti l'eredità di famiglia è fondamentale chi non ci riesce come christian e hanno sarà un fallimento cioè come se fosse l'individuo che fallisce di fronte a una responsabilità più grande cioè quella collettiva cioè la famiglia è un'entità collettiva chi rinuncia a portare avanti il buon nome della famiglia sceglie l'egoismo sceglie l'individuo e quindi si perderà in un certo senso si perderà nel tempo cioè mentre la famiglia è un gruppo che resiste molto meglio al trascorrere del tempo perché tu fai parte di qualcosa di più grande di te stesso chi invece non si adatta a questi valori si perderà diventerà un granellino di sabbia chi abbraccia completamente quest'idea di sacrificio è per esempio toni che rinuncerà a un matrimonio per amore pur di fare un matrimonio invece più conveniente dal punto di vista degli affari dal punto di vista sociale più idoneo alla sua figura sociale in nome appunto della buon nome dei budenbrock sarà proprio lei a far sua la lezione che il padre le impartisce quando lei è un adolescente appunto innamorata di un ragazzo che però non sa che non potrà mai sposare e lei farà sua questa lezione noi non siamo individui isolati ma noi siamo anelli di una catena e quindi quello che tu fai le azioni che tu porti avanti si riflettono su tutti noi cioè non esiste un individuo solo esiste un individuo all'interno della famiglia naturalmente questa morale pian piano si disgretola perché la società tende sempre di più a individualizzare gli uomini ad atomizzarli come direbbe Anna Arendt questo sia nel bene sia nel male nel senso che io per tutto il libro ho sofferto tantissimo perché toni non poteva fare quello che voleva ma veniva in un certo senso c'è la sua felicità è sempre stata sacrificata per ideali più grandi come quelli appunto del della rispettabilità della famiglia o appunto delle convenzioni sociali questo ovviamente una cosa che ci fa molta rabbia ma se vediamo il romanzo da una prospettiva temporale e diacronica che è quello che ci vuole comunicare Thomas Mann ovviamente è bello pensare di essere parte di qualcosa di eterno come appunto il nome di una famiglia come l'appartenerà a una stirpe il fatto di lasciare un segno non come individuo ma come appunto parte di di un gruppo di una comunità e in effetti questo da uno scopo ai personaggi da un senso alla vita all'opposto di questa concezione del tempo diacronico anche a livello letterario c'è invece ferito a morte di Raffaele la Capria che è praticamente l'opposto perché qui prevale la sincronia l'intero romanzo è costruito come se fosse ambientato in una sorta di sogno in una sorta di eterno presente quando noi sogniamo non ci rendiamo conto benissimo del trascorrere del tempo allo stesso modo ferito a morte che racconta di varie giornate estive nel corso di anni di distanza ok quindi in realtà lo scorrere del tempo c'è semplicemente però per come è costruito il libro le singole giornate vengono raccontate come se fossero degli episodi quindi non ti vengono diciamo raccontate esplicitate con i classici raccordi che di solito gli autori fanno per cercare di capire che ci troviamo in un altro in un altro anno per cercare di farti sentire il trascorrere del tempo no Raffaele la Capria è un maestro in questo perché ovviamente tu lo capisci che sono passati degli anni tra una giornata estiva e l'altra perché questo è il romanzo veramente dell'estate si raccontano delle giornate estive a Napoli a metà del novecento tu ovviamente tra un capitolo e l'altro ti accorgi da solo che le cose sono cambiate ti accorgi da come parlano i personaggi da quello che succede però sei proprio immerso direttamente nel cambiamento del tempo cioè sei direttamente in questo presente in questo momento presente presente non è che ti si non è che Raffaele la Capria fa quello che fa Thomas Mann cioè ti racconta che cos'è successo nel frattempo ti fa orientare no bam sinestesia questo è un romanzo sinestetico dove tutto quello che succede è filtrato attraverso tutta una serie di sensazioni che il protagonista Massimo un giovane napoletano sente contemporaneamente quindi così come le descrizioni di quello che lo circonda e l'ambiente che lo circonda sono sinestetiche anche il senso del tempo noi lo percepiamo come lo percepirebbe lui nell'esatto momento in cui lui lo percepisce e Massimo è un po come Gatsby ok lui è un po una persona smarrita nel tempo perché lui vive nel presente ma in realtà pensa continuamente al passato non è strano nel romanzo che lui fissando il mare fissando il pesce nel mare anche se ci troviamo nel 1951 lui ti trasporta in un flashback dell'anno prima o di due anni prima perché lui è un navigante del tempo è un uomo che vive molto nella sua mente nella sua interiorità e nonostante attorno a lui ci sia il chiasso il vociare di una Napoli estiva di una Napoli incantevole nonostante questo lui è profondamente ripiegato su se stesso ripiegato nella sua ossessione verso un passato che non può più tornare perché lui come Gatsby in un certo senso è maledetto da questa grande occasione mancata a cui lui cerca di porre rimedio in particolare ed è questo diciamo secondo me l'universalità e l'attualità di un titolo come ferito a morte lui è bloccato in una sorta di eterno presente ed è diviso fra la persona che avrebbe potuto essere la persona che è questo per quale motivo perché massimo è un giovane intellettuale lui vorrebbe fare il giornalista che vive a Napoli ma sa che a Napoli non c'è molta prospettiva di carriere quindi vuole andarsene vuole emigrare o a Milano o a Roma welcome la vita di tante persone tantissime persone soprattutto studenti studentesse fuori sede e quando lui torna a Napoli ogni volta anche se sono passati degli anni è in un certo senso ossessionato dai fantasmi i fantasmi della persona che avrebbe potuto essere se fosse rimasto a Napoli una città che ti addormenta o ti ferisce a morte questa è una citazione famosissima di questo libro capite bene che il senso del tempo quindi è profondamente diverso perché lui ogni volta che torna a Napoli è come se il tempo si fosse bloccato cioè tutto è cambiato ma in realtà sia per motivi sociali e culturali sapete che le città del sud cioè il progresso nelle città del sud è sentito molto più lentamente in maniera molto diversa e quindi il cambiamento è come se non ci fosse mai come se il romanzo volesse ribadire il fatto che ogni volta che Massimo torna a Napoli succedono sempre le stesse cose magari cambiano le circostanze ma più o meno ci troviamo di fronte agli stessi guaglioncelli colpiti dall'inedia le stesse situazioni comiche e disperate allo stesso tempo e soprattutto lo stesso mare lo stesso vulcano le città dominate dagli elementi naturali come il mare come il vulcano io lo capisco bene perché sono di catania è come se non cambiassero mai come se fossero soggetto delle maledizioni per cui vivono in un mondo altro in un tempo altro siamo molto lontani da lubecca che era la città commerciale e fortemente imprenditoriale dove è ambientato i buddenbrock e dove invece il cambiamento sociale arriva immediatamente ed è proprio il cambiamento portatore di conflitti nonostante la differente collocazione geografica infatti i due libri si assomigliano molto di più di quello che si potrebbe pensare alla fine entrambi partono da l'assunto del cambiamento come motore sociale e come motore individuale quindi come leva di cambiamento per il proprio destino il proprio la propria persona e ne fanno poi una questione più grande nel caso di Thomas Mann un tradimento nei confronti della famiglia perché emanciparsi dalla famiglia significa in un certo senso anche tradirla e nel caso di raffaele la capria il cambiamento è un tradimento nei confronti delle proprie origini della propria città delle proprie radici ma è soprattutto un tradimento nei confronti di noi stessi perché ripudiare in un certo senso cioè lasciare la città di appartenenza può essere veramente vissuto come una lacerazione come una ferita infatti come vi ho detto prima il problema di Massimo è che lui è veramente scisso fra queste due persone e oscilla continuamente fra il sé del passato che avrebbe potuto fare cose che ha un sacco di rimpianti e il sé invece giornalista che viva a Roma eccetera eccetera comunque sempre diviso fra questi due stati quindi in un certo senso turbamenti interiori universali che fanno parte della letteratura di sempre quindi due classici in questo caso ma raccontati con due stili molto molto diversi Thomas Mann è un grande cultore della descrizione materiale cioè lui attraverso la materia rispecchia poi lo stato d'animo dei protagonisti però è un grande scrittore della concretezza grande introspezione psicologica per attraverso i simboli i simboli del mondo borghese quindi la casa il diario di famiglia gli affari ok quei soprannomi i nomignoli questo è il modo in cui descrive Thomas Mann invece Raffaele la Capri ha uno stile molto più contemporaneo molto più espressionista tanto è vero che i dialoghi sono veramente la parte più forse anche ostica e difficile con cui approcciarsi a questo libro perché come vi ho detto stilisticamente lui ha un approccio sinestetico quindi i dialoghi sono non è che sono ordinati sempre dalle virgolette sta parlando lui sta parlando quell'altro no è tutto restituito come se stesse avvenendo nello stesso momento un vortice bisogna continuamente orientarsi ma quello che si deve cogliere cioè non è che bisogna affrontare questo libro come un cruciverba o come un rompicapo da risolvere assolutamente no quello che dobbiamo portarci a casa proprio questa sensazione di vertigine che coglie massimo non appena entra nel club va in barca con gli amici cioè perché quello che vuole rendere Raffaele la Capri è proprio questo gruppo di persone questo sciame perché Napoli è uno sciame cioè non c'è solo l'individuo ma c'è il gruppo c'è la comunità e anzi partire vuol dire proprio questo staccarsi da quello sciame crescere da soli allontanarsi come vedete ritorna anche qui un po il discorso sul gruppo e sull'individuo che c'è anche nei romanzi familiari anche nei romanzi familiari c'è sempre una continua dinamica di tensione e di conflitto fra individuo e gruppo tra famiglia e singolo in singola persona singolo membro della famiglia sono tematiche che non invecchiano mai ma che vengono trattate ogni volta in maniera estremamente diversa dalla letteratura a seconda di che autore scegliamo di incontrare penso per esempio ad autrici come Elena Ferrante che lo affronti in una maniera ancora diversa perché c'è una prospettiva più spiccatamente femminista e quindi c'è tutta un'altra tutta un'altra serie di temi quindi concludo questa mia riflessione dicendo che la rilettura serve anche non soltanto a ritrovare temi che magari ci parlano per esempio questo discorso sulla famiglia sulle origini mi colpisce particolarmente perché io sono la classica ragazza del sud che si è spostata per andare a studiare fuori poi rimasta fuori quindi quando torno subisco tutta una serie di emozioni tumultuose e conflittuali quindi è evidente che rileggere libri di questo tipo tra l'altro libri che io ho letto in sicilia e rileggerli poi una volta tornata a milano comunque una volta fuori dalla mia città d'origine ovviamente suscita nuove emozioni nuove riflessioni ma a parte questo appunto rileggere ti porta anche a capire nuove prospettive autoriali perché magari i libri possono avere anche gli stessi gli stessi temi ma il modo la filosofia con cui vengono approcciati è profondamente diversa abbiamo visto ora due autori come thomas man e raffaele la capria che ovviamente sono distante anni luce nonostante i punti di contatto ma siamo noi lettori che fa che uniamo i punti perché costruiamo la nostra geografia la nostra mappa personale di letture che ci hanno formato che ci formano e che ci parlano come individui ovviamente questo non è un invito a creare collegamenti dove non ci sono e dove non c'entrano neanche nulla però è semplicemente un modo per dire che rileggere non significa perdere tempo ma significa anche creare dei percorsi personali dei propri stradari no io vi ho raccontato appunto uno dei miei e spero che voi possiate raccontarmi i vostri le vostre riletture e le riflessioni a cui siete approdati concludo dicendo semplicemente che vi invito a mettere mi piace se avete apprezzato la puntata del podcast perché questo aiuta tantissimo il mio lavoro piccolo disclaimer potreste sentire un po peggio l'audio ma purtroppo non ho come l'attrezzatura ma non volevo rinunciare a pubblicare lo stesso questa puntata del podcast alla prossima perché l'audio sarà sicuramente migliore grazie mille e buone letture grazie mille Grazie a tutti.